Un piccolo ma importante gesto per i più piccini è l'iniziativa voluta dall'amministrazione comunale di Avellino in occasione delle festività pasquali. Ad annunciarla è l'assessore agli eventi di Piazza del Popolo Stefano Luongo attraverso un breve videomessaggio registrato presso la base operativa di Campo Genova. Il tutto è stato possibile grazie alla collaborazione di enti, associazioni di volontariato ed esercenti commerciali. L'iniziativa simbolica del comune di Avellino è un'occasione delle festività pasquali. Doneremo infatti alle famiglie maggiormente in difficoltà, più bisognose e con all'interno dei bambini uova di Pasqua a partire dai prossimi giorni. Lo faremo grazie alla collaborazione della protezione civile, la misericordia e falchianti incendio e soprattutto grazie alle donazioni di importanti aziende del territorio, Oliviero, Digitri e tutti coloro che si uniranno nei prossimi giorni. Inizieremo domani con 60 uva di Pasqua all'interno del reparto di pediatria dell'ospedale Moscati.